Io sono Alex Ganduzzi, ho iniziato a dare il mio contributo a questa azienda intorno al 2002 e da allora vivo una grande avventura. Oggigiorno sono Female Manager. Noi giochiamo le cosiddette persone spugna che imparano rapidamente le tecniche di comunicazione dal nostro coaching team, perché le nostre ragazze sono produttrici pubblicitarie, non sono la Bascale. Io direi che forse in questo momento qualcuna di loro può sentirsi magari in difficoltà, magari ha bisogno di un po' di sicurezza in se stessa. Sorati, credo che abbiano bisogno di lei. È il momento, la prego. Mi create un po' di ambient, un po' di musica, grazie. Sì, in questo momento qualcuna di voi... Ho letto dei nomi bellissimi. Alice, Claudia, Beatrice. Se Alice in questo momento non si sente all'altezza, perché può capitare, siamo esseri umani, ognuno è diverso, prima di andartene, prima di rinunciare ad essere qualcuno. Io ti dico, aspetta. Buongiorno signora, sono Alex della Walking Journal e lei non mi conosce, le spiego subito il motivo della mia telefonata. Lei è stata sorteggiata per ricever lì a Visana un buono gratuito dell'ionizzazione completa dell'area di casa sua. Allora, signora, non deve capire con esattezza che cosa le si dà la sua luna. Della camera, del bagno o del salotto, se qualcuno fuma. In cambio di questo, signora, lei dovrà semplicemente esprimere un parere sul nostro macchinario sulla persona che glielo mostrerà. Cosa dice, signora? Facciamo domani alle 15 o dopo domani alle 18? E ora potete riprendere il respiro. Allora, si prende un gran bel respiro, colonna d'aria, attensa, via! Silenzio, per favore. Un attimo di atnea prima del sorrino. Smile! Think positive significa attenza, positivo. Che il nostro marketing office ha personalizzato in pink. Positive, rosa positivo, la nostra vision. Rosa, perché voi siete donne. Positive, perché lavorare con noi è positivo. Walk the June. L'esperienza unica e infinitica. Alla volte, alla volta ti acquisirai competenze che si rivederanno preziose per il resto della tua vita. Per una queer mitic motivazionale, ci prepariamo al coaching collettivo. Ma prima una breve pausa in cui potrete ripensare a questi input, alla volta ti e alla vostra vita! Pausa dopo, grazie! Dottoressa, buongiorno! Che disgusto! Io? Ho sempre saputo che non ero in grado di controllare i suoi limiti e i suoi vizi, ma l'ho scelta lo stesso. So che ha altre qualità. Amo come dissimula la sua ambizione. Grazie. Come se la cava, Alessandra? Al massimo può occuparsi del coaching, ma non certo della leadership. Oppure riportarla al telefono, perché con quello ci sa fare. Ma come dice lei, dottoressa, non c'è stoffa per altro. Il fait retourner au téléphone. Io rimango alle vita di come nessuno abbia il senso del limite. Scusi. Ratti, le suggerisco di non dare mai più consigli alla sottoscritta. La piale francese è così vicina! E con questo... Au revoir! Au revoir, il prezzo al reso. Oggi non avverrà alcuna premiazione. Nessuno... Nessuno... Ha meritato niente. E sono veramente mortificato. Il portachiavi della World of Endurement era a vostra disposizione. Vi faccio vedere anche i nuovi. World of Endurement Qualcune domande, Ganduzzi? Perché hai portato quella scheda in più? Come hai potuto far spillare in piena con il patch il tuo telefono privato? E allora... Non voglio dire questo. Voglio semplicemente dire che so fare il mio lavoro. E lo dimostro al fatto che il mio coaching è stato impeccabile. Sì, impeccabile! Hai fatto spillare il concendulare nella convention con i novellini. La dottoressa Ganduzzi non è mai intervenuta in una convention con i novellini. E se l'ha fatto vuol dire che c'era qualcosa di molto grave. Che è successo qualcosa di gravissimo. Odia queste... Cadute di stile. Sì, è caduta. Brava. Sì, è caduta. Bravo, amore. Certo che la tua alea arriva subito. Arriva presto, presto. Cliccato, torniati. Ma lo posso fare adesso se vuoi. Che dignavo che allora... Sì. Stiglia, stigli. La notte si avvicina. La fiamma tra barna e la monta. Grazie a tutti.